Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video sul Visual Basic Mi scuso intanto se è da tanto che non faccio un video sul Visual Basic Ma avevo bisogno di portare avanti anche altre serie come quella sul Java e quella sul C Perché avevo fermato anche quelle da un bel po' Comunque non preoccupatevi, da oggi comincerò a rifare anche un po' di video sul Visual Basic ogni tanto Quando avrò un po' di tempo Allora per prima cosa oggi vedremo come fare un programma che interagisce con una pagina web Quindi vedremo come per esempio mettere del testo in una casella di testo che c'è su una pagina web Come cliccare un pulsante di una pagina web tramite il nostro programma, cose del genere Quindi andiamo subito a creare un nuovo progetto, un'applicazione Windows Form Chiamatela come volete, io la chiamerò ovviamente Pino e me la salverò Va bene, nei progetti di Visual Studio Benissimo, apriamo la nostra casella degli strumenti Io la ancoro, così rimane sempre qua Allarghiamo un pochettino il nostro form e ci mettiamo subito un bel contenitore Quale contenitore più adatto è il Group Box Questo Group Box ci permette di inserire al suo interno vari controlli Quelli che serviranno a noi saranno un pulsante per il momento Eccolo qua E una label Che mettiamo qua E infine una text box Perfetto Ci siamo Allora, andiamo a modificare il testo della nostra label Quindi andiamo alla proprietà text Che devo trovare Eccola qua E ci scriviamo Parola da cercare Anzi Vediamo un po' Video da cercare Per esempio Il programma che andremo a fare interagirà con YouTube Quindi vi farò vedere come interagire con YouTube Ma potrete usare gli stessi concetti Per qualsiasi altra cosa È giusto un esempio Poi magari nel prossimo video Vi faccio vedere come strutturare un programma In modo tale che possiate fare un login Proprio su una pagina tipo Gmail Una pagina tipo Yahoo Cosa del genere Va bene, quindi mi raccomando Mettete tutto questo nel Group Box Quindi sia il pulsante che la text box Sia la label Vanno messi nel Group Box In questo modo se io muovo il Group Box Muovo anche tutto il resto Quindi è come se fossero tutti raggruppati Ora cliccate sul Group Box E andate ad impostare il Dock Ovvero l'ancoramento del nostro Group Box In alto In questo modo Succede che Il nostro Group Box Se si allarga o si restringe Il nostro programma Rimane sempre ancorato Quindi non ci sono errori grafici La cosa più importante che adesso manca È l'ultimo componente Ovvero il Web Browser Il Web Browser è il componente Che effettivamente serve per Per navigare poi In rete Quindi il Web Browser Avrà la nostra pagina Sulla quale andremo a operare A interagire Quindi clicchiamo sul Web Browser Andiamo nella sua proprietà Se la trovo URL E ci scriviamo E ci scriviamo www.youtube.com Perfetto Quindi scrivendo youtube.com Il Web Browser quando partirà Aprirà la pagina di YouTube Infine Lasciamo Fill come docking E avviamo il nostro programma Aspettate un po' Perché ovviamente Lo ricaricherà la pagina Di YouTube Vedete io ora Se lo ingrandisco Siccome ho messo fill Il Web Browser va tranquillamente Quindi posso ingrandire Anche tutto quanto Ora quello che noi vogliamo fare È cercare All'interno Di questa Barra Quindi Quello che scriviamo qui Se io ci scrivo pizza E clicco sul mio pulsante Cerca Voglio che Qui dentro Venga scritto pizza E che venga fatto automaticamente Il click Su questo pulsante Per fare tutto ciò Avremo bisogno Di usare Google Chrome Perché Google Chrome Ci permette Tramite una sua funzioncina Di identificare Diciamo Il nome Di questo Di questa Testbox E il nome Di questo pulsante qua Dopodichè Potremo andare a programmare Il nostro pulsante Affinché Metta il testo Che c'è scritto qui dentro Nella nostra Textbox 1 All'interno di questa Textbox E Vada in automatico A cliccare Sul pulsante di ricerca Quindi Andiamo a prendere Google Chrome Eccolo qua E Andando ovviamente Sulla pagina di YouTube Clicchiamo sulla barra Di ricerca Facciamo Tasto destro Ispeziona Elemento Vediamo che Appare Questa bella Questo bel insieme Di codice Con una parte Evidenziata La parte evidenziata Come vedete E' quella Del nostro Della nostra Textbox Vedete Se io metto il mouse qua Si illumina La textbox Quello che a noi interessa E' il campo ID Della nostra Textbox Che sta Qua Vedete ID E Must Head Search Term Quindi facciamo Doppio click Tasto destro Copia Andiamo nel pulsante Cerca Alla programmazione E Fuori dal form 1 Ci dichiariamo Due variabili String Quindi Dim Casella As String E ci mettiamo Qua Il tag Della nostra Casella Lid Scusatemi Della nostra Casella Ok E poi ne facciamo un'altra Ovviamente Per il pulsante Ok Dobbiamo cambiare Ovviamente il tag Quindi andiamo Dove sta Google Chrome Stavolta Ispezioniamo L'elemento Della Il pulsante E Vediamo qual è L'id C'è da qualche parte Eccolo qua Search button Quindi lo prendiamo Lo copiamo E lo incolliamo Qua dentro Benissimo Quindi adesso Abbiamo tutto quello Che ci serve Per andare A interagire Con la pagina web Vediamo però Come farlo Effettivamente Quindi Quando il pulsante Viene cliccato Facciamo che Viene preso Il testo Di questa Textbox1 Quindi Dim Testo As string Uguale Textbox1 Punto Text Ora questo testo Lo dobbiamo andare a mettere Nella nostra casella Per fare questo Chiediamo al nostro web browser Di prendere il documento Che ha caricato Quindi il documento Attualmente aperto Ovvero la pagina web Attualmente aperta Ed in questa pagina web Di trovare un elemento Attraverso l'id L'id Quindi Con questa funzione Noi indichiamo Un id Che può essere questo O questo Come quello di qualsiasi Altro componente E il nostro web browser Identificherà Quell'elemento Che ha Quell'id Quindi se io Indico casella Il web browser Va a trovare Questo Una volta che l'ha trovato Possiamo fare Una bella Punto Inner text Ovvero il testo Che c'è dentro Quella casella E lo andiamo Ad impostare Come il nostro Testo Quindi vi faccio vedere Che succede Adesso Guardate un po' Allora io qua Ci scrivo Riku Defus Clicco su cerca Voilà Vedete E' apparso Riku Defus All'interno Della mia casella Perché Con tutta questa istruzione Lui è andato a trovare La casella Con la inner text E' andato a modificare Il testo Di quell'elemento lì Quindi della casella Mettendoci appunto Quello che c'era scritto Nella textbox 1 Ovvero Questo qui Benissimo Ora l'unica cosa Che ci resta da fare E' simulare il click Nel pulsante di ricerca Quindi facciamo Lo stesso procedimento Ovviamente Stavolta cercando Il button Dopodiché Andiamo a Fare Una Invoke Member Di quel Di quel Di quell'elemento Non so perché Me la segna come Errore Un attimo solo Eccola qua Ok Invoke Member La Invoke Member Non fa altro che Eseguire Una determinata Funzione Di quel pulsante Quella che serve a noi E' ovviamente Il click Quindi Stiamo dicendo Di andare a prendere Il pulsante E di fargli Eseguire Il click Quindi come se avessimo Cliccato Su quel pulsante Clicchiamo Su avvia Quindi io qua Scrivo Pomodoro Faccio cerca Vedete Appare Un alert Questi alert Possono essere Molto fastidiosi Quindi adesso Fermiamo un attimo Il nostro programma E andiamo a Dire al nostro web browser Di ignorare Questi alert Il comportamento Dobbiamo andare nel comportamento E Abilitare questo Script Errors Suppressed Quindi lo mettiamo a True E adesso non apparirà Più nessun alert Quindi Andiamo qua Scriviamo Riku Defuse O voi scrivete Quello che volete Fate clic su Cerca E guardate un po' Automaticamente Viene cercato Appunto Quello che voi avete scritto Qua dentro Se io qua ci scrivo Pomodoro Lui mi trova I pomodori Se ci scrivo Miau Mi trova Miau Quindi fa esattamente Quello che abbiamo detto C'è soltanto Una piccola miglioria Che dobbiamo andare a fare Ovvero Disabilitare Questo pulsante E abilitarlo Soltanto Quando la pagina È pronta Quindi Quest'operazione Noi la possiamo fare Soltanto Quando la pagina È stata caricata Completamente E dobbiamo quindi Impedire Che per sbaglio Possa essere Cliccato Quel pulsante Quando la pagina Non è ancora carica Quindi Andiamo a modificare La proprietà Enabled Del nostro pulsante La mettiamo a false E facciamo Un doppio clic Su web browser 1 Vedete che aprirà L'evento Document completed Che si verifica Quando è stato caricato Effettivamente Tutto il contenuto Della pagina web E in questo evento Ci andiamo a mettere Button 1 Punto Enabled Equale true E anche Text box 1 Punto focus In questo modo L'enabled Equale true Ovviamente Abilita il pulsante La focus invece Posiziona il cursore Qua dentro Quindi se io faccio Avvia Vedete Adesso si posiziona Automatico E il pulsante Invece si abilita Quindi adesso Ci scrivo di nuovo Recute fufs Faccio cerca E vedete che Ovviamente Funziona tutto quanto Quindi qua è come se Avessi cercato Su youtube Ovviamente questo è solo Un esempio Però Nel prossimo video Magari vi farò vedere Come fare anche Una Una finestrella di login Quindi come mettere Anche un campo Per la password E tutto il resto E come fare Un login Attraverso Questa interfaccia Per il momento Ci fermiamo Spero che in qualche modo Questo tutorial Vi sia stato utile Se ci sono problemi Contattatemi Nei commenti Oppure con un messaggio privato Io cercherò Di rispondervi Anche se state diventando Tantissimi Ricordatevi di iscrivervi Al canale Per rimanere sempre Aggiornati Sugli ultimi video E sulle ultime novità Per oggi è tutto Ci vediamo qua E ci vediamo Nel prossimo video A presto